Musica I dovinate in quale video siamo? Oggi siamo su uno speciale 100 iscritti Finalmente sono così citato Sono arrivato a 100 iscritti dopo due misteri anni su youtube Ragazzi grazie di cuore per esservi iscritti al mio canale Sono arrivato a 100 iscritti grazie a tutti Comunque bello a tutti ragazzi Benvenuti in questo video speciale per iscritti Oggi siamo su uno speciale 100 iscritti grazie ancora di cuore a tutti quanti Oggi faremo Strange Adventure Tutti i livelli Appunto faremo Strange Adventure completo Allora molti lo sapranno perchè l'ha fatto pure FVJ Ma alcuni magari non lo conoscono Ma comunque è un gioco Come ce l'ho detto da titolo Strange Adventure Quindi sarà un'avventura strana Ebbene vi lascio un video ragazzi Io ovviamente non parlo Metto Cioè Vi lascio un video con delle musiche di sottofondo E poi ci vediamo alla fine Ciao Ciao Samba! Samba! De Janeiro! Samba! De Janeiro! Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim Embaixo, 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 embaixo Samba 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 Mua Samba Grazie a tutti 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 Grazie a tutti